Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel covo di Weevil. Io sono Stefano e nel video di oggi ci guardiamo la finale del regionale di Goiania in Brasile che si è tenuto pochi giorni fa e che ha visto arrivare in finale un mazzo che ultimamente si vede sempre più spesso ai tornei ma che non vi ho ancora nominato, devo dire, su questo canale, ovvero Snorlax Stal, che potremmo chiamare forse però Snorlax Control, Snorlax Pigeot, magari addirittura Pigeot Control sono un po' in difficoltà a capire come chiamare questo mazzo perché questo è molto simile a uno Snorlax Stal però ha un solo Snorlax gioca Pigeot, c'è Charizard Lucente che attacca, è veramente un mazzo particolare comunque adesso per cominciare io vi spiego un po' la lista, poi ci guardiamo la partita di questa finale che sarà veramente un round bellissimo e poi voi fatemi sapere nei commenti se questa versione di mazzo Snorlax vi piace di più o di meno rispetto a quella classica Cominciamo allora guardando le carte più ovvie, ovvero Snorlax Snorlax è giocato in monocopia ma gioca un ruolo molto importante in questo mazzo perché con la sua abilità a blocco impedisce al Pokémon attivo dell'avversario di ritirarsi quindi l'idea è, contro molti mazzi, usare Ordine del Capo, Contrachiappa Pokémon lasciare un Pokémon bloccato in posizione attiva con Snorlax, un Pokémon che non possa attaccare e rimane ribloccato Come facciamo a far funzionare tutto questo mazzo? Il motore principale è Pidgeot Pidgeot lo conosciamo bene, se il mazzo Charizard è uno dei mazzi più giocati in assoluto ti fa cercare nel mazzo una carta qualsiasi, una volta per turno Questo mazzo è pieno di carte in monocopia, come vedete, e quindi è molto semplice prendere sempre proprio la carta che ci serve A inizio partita ci settiamo con Rotom V, possiamo pescare tre carte e ci finisce il turno quindi è un modo per iniziare ad accumulare un po' di risorse Abbiamo anche un Mawile, che ha praticamente la stessa funzione di Snorlax solo che anziché farlo con un'abilità, lo fa con un attacco E questa cosa è interessante perché Snorlax, se tu per esempio usi Boss togli Snorlax e quindi puoi ritirare il Pokémon che è attivo Se invece usi Mawile, devi per forza switcharti perché il Pokémon che viene bloccato, viene bloccato e basta a prescindere che l'avversario utilizzi il Boss oppure no Quindi è un modo diverso di fare la stessa cosa, che ha dei vantaggi e degli svantaggi Chiaramente lo svantaggio è anche il fatto che devi attaccare, quindi devi anche avere l'energia Snorlax invece semplicemente con un'abilità E' interessante il fatto di giocare sia Snorlax sia Mawile piuttosto che 4 Snorlax come i mazzi classici che si basano su Snorlax C'è poi l'Axra IV, che è la componente di control principale di questo mazzo Col primo attacco, tu guardi le carte che amano il tuo avversario e scarti una carta allenatore presente tra esse Carta allenatore, quindi non solo strumento, non solo stadio Può essere acromio contro un mazzo low zone Può essere scambio contro solitamente la maggior parte dei mazzi E' una carta veramente fastidiosa In un mazzo come questo, che lo usi fin dal inizio della partita Puoi bloccare il setup all'avversario, mentre tu ti setti Pidgeot Ti può veramente far vincere la partita, anche solamente questo Luxray Abbiamo poi C.U.I.X, che è un po' come Crabobine Evolve V Quindi col primo attacco fa scartare le prime due carte del mazzo dell'avversario C.U.I.X vuole un'energia a fuoco, proprio come Charizard Lucente Che è la carta forse più particolare che vediamo in questo mazzo Perché questo è un mazzo stall, un mazzo control, un po' entrambe le cose Che però può anche attaccare E vedremo in questo round, cioè in questo video comunque Non in tutti i round, ma comunque in tutti No, non vi dico in quante partite Vedremo comunque Charizard Lucente in azione E vedremo quanto è forte Cioè quanto sarà efficace per Marco Sifuentes Riuscire a utilizzare Charizard Ripetutamente contro il mazzo dell'avversario E' un modo per... Perché qual è il problema dei mazzi stall di solito? Che ci mettono tanto tempo a vincere E quando arrivano poi nelle finali o comunque nelle top Riscano di non fare il tempo a vincere Proprio sono a fare la partita secca E il primo che pescano carte premio vince Ma se questi mazzi non pescano carte premio come fanno? Grazie a questa idea di giocare Charizard Lucente in questo mazzo E' possibile anche per i mazzi stall riuscire a vincere Ed è veramente secondo me Secondo me questo modo di giocare Snorlax È meglio rispetto allo Snorlax stall classico Perché appunto magari lo Snorlax stall classico È meglio nel corso dei round di Svizzera Ma quando arriviamo in top Per questo modo è più efficace di giocare il mazzo Per quanto riguarda i Pokémon Abbiamo Spiritom per bloccare Genesex V Fondamentalmente Attenzione a non giocarlo quando abbiamo Rotom in gioco Se no ci blocchiamo da soli Rotom E infine per i Pokémon L'ultimo che ci mancava a guardare è Mimikyu Mimikyu che vabbè c'è anche nel mazzo Snorlax classico Non può essere danneggiato dai Pokémon X e V Diciamo che contro alcuni mazzi Praticamente vinci solamente giocando questa carta Senza neanche preoccuparti di stallare con Snorlax Quindi una carta molto forte Per quanto riguarda le carte allenatore Allora Pepe è la carta aiuto principale Abbiamo un sacco di carte strumento E un sacco di carte oggetto da utilizzare Come carte oggetto abbiamo per esempio La benda sfida Con cui Chisel può arrivare a fare 280 danni Che è un numero importante per mettere capo a Pokémon Viastro Il corpetto sfida Con cui possiamo dare 40 punti salute in più O comunque far subire 40 danni in meno ai nostri Pokémon Quindi anche Pigeot che già ha 280 punti salute di per sé Con questa carta e noi saremo quasi sempre sotto i premi È come se ne avesse 320 Veramente tanti Sigillo forestale Abbiamo diversi Pokémon Vi nel mazzo Quindi è una carta molto forte da usare E due amore tra il coraggio Perché chiaramente è un mazzo stall Se riusciamo a non farci mettere capo a un attacco ai nostri Pokémon È sempre meglio Come carte stadio abbiamo due montane tempestose Molto forti da prendere l'Axray a inizio partita per esempio Lo Stasones per prendere altri Pokémon E il bacino di magma per caricare Charizard con un'energia in più Charizard si carica con un'energia a fuoco Quando l'Avestro ha preso 4 carte premio Ma grazie al bacino di magma possiamo mettere un'energia in più Oppure magari appunto L'energia negli scarti non ce l'abbiamo in mano La possiamo assenare col bacino di magma Quanto riguarda le carte aiuto 3 penni Questo è un mazzo stall Quindi se il nostro avversario non riesce a mettere capo ai nostri Pokémon Noi li riprendiamo in mano Li rimettiamo in gioco E andiamo avanti così per tutta la partita È anche un modo poi per togliere dal campo Dei Pokémon che potrebbero essere dei premi facili Per il nostro avversario Una Chissara Perché comunque ci sta Vuoi far finire le carte nel mazzo del tuo avversario Ma comunque ci sta Avere la possibilità di fare un po' di hand disruption Molto forte anche con l'Axray tra l'altro Ed è forte anche per pescare 6 carte Per noi Un boss Ma comunque giochiamo 3 contra chiaba Pokémon E questo mazzo è meno stall di Snorlax Quindi non serve giocare a troppi modi Per fare gusting Invito di Erika Carta fortissima Quindi se uno si tiene in mano i Pokémon base Che non vuole mettere in gioco Tu con il invito di Erika Glielo fai mettere in gioco E lo fai mettere in posizione attiva Sorelle Florido Una sola noi giochiamo qui Perché appunto è un mazzo più control che stall E che può anche attaccare Quindi ci sta Possiamo utilizzarla ogni tanto E la recuperiamo con il blocco amici Che giochiamo comunque Dove è il blocco amici Addirittura in 3 copie Possiamo fare un po' più di 1000 Grazie a questa carta Sofora fortissima Per riprendere Charizard ed energia a fuoco E quindi usare Charizard Tanti turni di fila Selina È un mazzo control Quindi comunque deve recuperare le risorse E quindi non so se rivisca Per esempio il blocco amici eccetera Fosco per scartare carta oggetto Carta energia speciale O carta stadio Alla mano del tuo avversario Romellio per scartare L'energia speciale Dei Pokémon del tuo avversario Una per ogni Pokémon E forte contro Mew Per scartare l'energia colpo fusione Soprattutto segnate sui vari Genesect Penso sia una delle carte un po' meno usate Di questo mazzo È molto molto situazionale Demetra è una carta molto forte Guarda una differenza rispetto al classico Snorlaxstar Naturalmente Demetra ti permette di curare Tutti i Pokémon in evoluzione Alla di danni Quindi noi abbiamo un Pidgeot Che ha tanti punti salute Con la tool neanche di più E poi usi Demetra Quindi già è difficile danneggiare Difficile metterlo KO E togli pure i danni E non è che ti fanno boss due volte di fila Perché comunque tu magari li metti Snorlax in posizione attiva Quindi è una carta davvero fortissima qui E Nia perché Ok che peschiamo carte premio Però comunque Abbiamo tante carte in monocopia È importante interagire con le carte premio Idem Stesso discorso per la Pesable di Isui Carte strumento non c'è moltissimo da dire A parte quelle che vi ho già mostrato Abbiamo chiaramente la Minorable Il Battle Vipass E l'Ultra per prendere i Pokémon Due caramelle rare Per settare Pidgeot Alla fine ne setti una partita Quindi basta comunque giocarne due Se magari uno finisce nei premi Poche gear forte Con tutte le carte di video che abbiamo visto Un carretto di scambio Aspiratore perduto Tutte carte in monocopia Facili da prendere con Pepe E basta Questa è la lista Io vi dico ragazzi Come ho detto prima Le partite sono veramente veramente belle Questo è un mazzo davvero figo Penso che sia più difficile da usare Dello Snorlax Tal classico Mi piace molto questo mazzo qua E niente Buona visione E fatemi sapere cosa pensate di questo mazzo Abbiamo Dalton Acchetta Penso si pronunci così Dai sembra un condome italiano Contro Marco Sifuentes Ok sono entrambi settati Dalton è in partito con Spiritomb Che non è male come partenza Perché è un attacco con cui si riprende in mano Quindi contro Snorlax Non è affatto male Battle Vipass Quindi non male La partenza di Dalton Ricordiamo che quello di Marco Sì consideriamolo uno Snorlax Tal Tutto sommato Perché alla fine Snorlax È una parte integrante della strategia Però ne gioca uno solo di Snorlax E in realtà Il grosso sono tutte quelle carte Che stanno intorno a questo mazzo Soprattutto Cesar Lucente Che è un ottimo attaccante E già lo sappiamo Ma lo è particolarmente in questo mazzo E vedremo poi nella pratica In queste partite Se si vedrà questa cosa Greninja e Palkia Quindi il fatto di essere partito di Spiritomb Avere battle Vipass Significa per Dalton Poter mettere in gioco I Pokémon che vuole Senza quindi che Marco Possa approfittare del fatto Che Dalton è partito con un Pokémon Difficile da ritirare Quindi questo è sicuramente Un vantaggio per Dalton Vediamo come sceglierà Rigioccare questo matchup Perché È sempre un matchup complicato Snorlax Davvero sono proprio pochi i mazzi Che sono tranquilli A giocare contro Snorlax Dalton Asrock Greninja Ha pescato un paio di carte Ora usa La Paisable Per guardare i premi E prendersi un Ice Rider Che non so se giocherà Però non è male Come attaccante Ice Rider Contro Contro Snorlax Quindi potrebbe anche Scegliere di giocarlo Però è già Palkia Perula Ok Quindi la partenza di Dalton È assolutamente ottima Niente a dire Vediamo cosa andrà a prendere Magari prende Palkia via Astro Come Pokémon Acqua In effetti ha senso E come carta strumento Vediamo Un altro Battle of the Pass Ok Quindi non ha paura A mettere Pokémon in gioco Non gli interessa Ah no Invece prende un Anfora Terrestre Che ci sta Perché chiaramente Tu vuoi utilizzare Il potere viastro di Palkia Il prima possibile E quindi devi prenderti Un po' di energie Così un po' le scarti Un po' le prendi Un po' le scarti Con Greninja Vedo che Marco Aiuta molto Dalton Per evitare Che si confonda Con le carte Che mette in gioco Io Li darei qualche secondo In più Prima di Mettere le carte Negli scarti In quel modo lì Nel senso Non è che poi rimangono Lì le carte Vabbè Ah alla fine Ice Rider Ha scelto di giocarlo Vabbè ci sta Palkia e Ice Rider Sono abbastanza indifferenti In gioco Cioè Non è che Avere in gioco Uno E basta Ti dà un vantaggio Vogliono due energie Entrambi E poi sono a posto Sono pronti per attaccare Pepe Che è la carta aiuto Principale Giocata dal mazzo Di Marco Vediamo adesso Che linea strategica Sceglierà Di impiegare Immagino che la sua priorità Sia settare Pigeot Adesso E cercare di bloccare Qualche Pokémon In posizione attiva Mentre setta Pigeot Così in modo poi Di avere in gioco Un motore Che sia a posto Per tutta la partita Sta controllando giustamente Le carte premio Che è una cosa che Bisogna fare sempre A prescindere Ma in particolar modo Con mazzi Come il suo Che gioca un sacco di carte In monocopia E soprattutto Che fa fatica A pescare carte premio Quindi magari Un mazzo come Mew V-Max Che lo so che ormai ruota Però è un esempio Che funziona molto bene Che pescano tante carte premio In fretta Se anche hanno dei premi Se anche hanno dei premi Nelle carte importanti Pescano talmente Tanti premi E talmente in fretta Che poi le probabilità Di pescarle Sono molto alte Nel caso Gli Snorlax Invece Cavoli Bisogna stare attenti Ecco L'Axray V Che è una carta Che nello Snorlax Classico Non vediamo Di solito L'abbiamo visto Per un pochettino Di tempo Nel Nel mio V-Max Per gestire meglio Il matchup Contro Contro Charizard È una carta Veramente fastidiosa Vediamo se riesce Anche a metterlo Attivo E attaccare No non ancora L'Axray V Scarta una carta Una carta allenatore In mano al tuo avversario Con il suo primo attacco Quindi è È più una strategia control Che stall In questo caso Perché vai a interagire di più Con il tuo avversario Mette attivo L'Axray Che è una scelta Anche rischiosa Perché Non ci vuole molto Adesso ad altro A mettere il capo Quell'Axray E quindi a pescarsi Due premi molto in fretta Però Marco è un giocatore Molto forte E E sa bene Che c'è questo rischio Anche Green Ninja Non sarebbe male Da usare adesso Per mettere il capo Quell'PG E provare a bloccare Il mazzo di Marco Il mazzo di control Se riesce a bloccarli Prima che si settino Di solito Si riescono a battere Se si settano Diventa più difficile Adesso vediamo Dalton Cosa sceglie di fare Ha avuto Perula Per due turni di fila Quindi La sua partenza Sarà davvero Ottimale Quindi Quello che Quello che può fare Senz'altro Lo farà Bisogna capire Se a livello Proprio di Di skill In questo momento Sa come gestire Questo matchup Perché Il mazzo di Marco Non è un mazzo Che si trova molto spesso Specialmente Questa versione Con Pigeot Che si vede Sempre più spesso Adesso Però comunque È meno diffusa Della versione classica Diciamo di Snorlax Quindi può darsi Che Dalton Sia anche la prima volta Che sta giocando Contro Contro questo mazzo E che sta quindi Un po' improvvisando Questa partita Io stesso Sinceramente Non ho mai giocato Palkia Contro Snorlax Pigeot Quindi Sto cercando Di capire Anch'io Insieme a loro Quale la strega Migliore da seguire Adesso Non mi dispiace Questa mossa Anche se Non sono sicuro Che Nel corso Della partita Non penso Che questi due premi Così rapidi Poi ti facciano vincere Perché Control Mette in conto Che a inizio partita Concede un po' Di premi Pensavo che stesse Concedendo Prende due carte Invece lei era Peso Poi l'ho detto Cavoli Ho perfetto di dire Che la partita Non è ancora finita E lui stava concedendo Ok Un altro Pepe Quindi anche lui La sua carta aiuto principale L'ha trovata Per due tour di rifila Molto bene Quindi per entrambi Stiamo vedendo Una bella partenza Per entrambi Vedo un sigillo forestale E un ultra ball Sta ripensando Un po' Il sigillo forestale Non è più tanto convinto Ok Scegli di prendere Un altro Amorietto del coraggio Ultra ball Per prendere Pigeot Evolve Con la caramella rara E adesso Siamo settati Una volta che c'è Pigeot Veromare Il grosso è fatto Settare un fase 2 Giocato in poche copie Senza comunque Tante carte Per cercarti nel mazzo Pigeot Non è proprio semplicissimissimo Ok E inizia Lo stall Quindi in questo momento Stiamo vedendo Una classica giocata Da Snorlax Tal Classica proprio Arriva Biduf Che non sono sicuro Che mi piaccia Vedere in gioco Perché Che si Bibarel può fare 100 danni Però lanciando una moneta Quindi Non è scontato Tu riesco sempre All'attaccare Quindi diciamo Che apprezzo Senz'altro L'aggressività Di Dalton In questo momento Che sta mettendo Molta pressione Su Marco Che se non si sbriga Potrebbe rischiare Di perdere Proprio perché Comunque Dalton È già a metà partita A livello Dei premi pescati Però Non sono così convinto Che Che questa aggressività Di Dalton Poi lo farà Per forza vincere Anche se sicuramente È un'ottima strategia Per gestire il matchup Ok Intanto Questo Mimicu Non sarà semplice A mettere KO Perché c'è Greninja Ok Però poi Mimicu Torna in gioco È anche vero Che poi basta mettere KO Pigeot Quindi In teoria Che ne so Un boss su Pigeot E poi Greninja KO Entrambi i Pokémon Tre premi Vinta la partita Quindi questa È un'altra opzione La Greninja Comunque va caricato Il potere di Astro È già stato usato Quindi Vediamo adesso Come se la gioca Dalton Cross Witcher Mi piace Scegliere di fare L'attacco da 40 danni E basta Però Ecco Questa cosa Mi piace meno Perché portare A 240 danni Pigeot Sì Significa che poi Con un attacco Di Ice Rider Lo mette KO Però Devi rifare Boss O Cross Witcher Mentre facendo Un sacco di danni Bastava poi Un attacco di Greninja È anche vero Che Greninja Appunto doveva caricarlo E non credo Che abbia energia in mano Quindi Forse Cioè sì In linea teorica Greninja sarebbe forte Però poi nella pratica Sarebbe difficile da usare Attenzione È arrivata Questa Vest Così Pigeot È ancora più difficile D'essere messo KO E guardate che potrebbe Anche finire Semplicemente così La partita Cioè Questo Mimikyu qua È veramente complicato Adessere mettere KO Per Dalton Che ha messo La metà delle sue energie Su altri Pokémon Bisogna capire che risorse ha Adesso non ho in mente Proprio la perfezione Della lista di Dalton Quindi non so di preciso Ah questa mi piace Per esempio Ok Ora sì che si ragiona Con la colonna D'allullamento Può togliere L'abilità Mimikyu E metterlo KO Molto facilmente Scarto un'energia KO Ok Quindi adesso basta mettere KO Pigeot E Dalton ha vinto la partita Ok Mancano solo due premi Due premi Vuol dire potenzialmente Un attacco Anche se ora Pigeot Non riesce a mettere KO in un attacco Se non togli Quella carta oggetto Quindi bisogna valutare Anche questo Arriva anche un altro Snorlax E passa Vediamo Vedo una fune di fuga Quindi già questo Non è affatto male Anfora terrestre L'energia Vediamo adesso Dove scegliere Assegnare Una su House Ice Rider Per forza A meno che non voglia Caricare qualche altro Attaccante Ma non vedo perché Vabbè si lo carica Con Melania Quindi può Caricare dalla mano Potrebbe caricare Green Ninja Io penso che Assegnerà Green Ninja In questo caso Però non so Che idea Abbia lui adesso Dipende un po' Da quali risorse Gli restano Ultra Ball Si prende Bibarel Carta che secondo me È stato un errore Giocare Ok sta caricando Green Ninja C'è anche Demetra Nel mazzo di Marco È vero Quindi Interessante Una carta che di solito Non si vede Snorlax Tal Per ovvi motivi Perché non ha evoluzioni Ma che in un mazzo Basaro su Pidgeot Che è così difficile Da essere messo capo A un attacco Può essere veramente Veramente forte Fune di fuga Non è male Come mossa Però Dalton forse non sa Che adesso Marco è in mano Demetra Quindi annullerà Sia il cross witcher Sia la fune di fuga E E questa cosa qua È una cosa Non da poco Penso ne vede Un counter catcher O peso l'energia fuoco No Le counter catcher Penso No l'energia fuoco Invece ok Demetra E questa mossa qua Questa mossa qua Ragazzi Secondo me È abbastanza Recisiva Perché Dalton Non può andare avanti All'infinito A usare cross witch Funi di fuga Eccetera A un certo punto Finirà queste risorse E E Marco nel frattempo Mentre Dalton Fa fatica Trovare queste risorse Marco può recuperare Demetra Può cercare le sue carte E così via Tanto qua sta caricando Greninja Ecco caricare Greninja Ci sta Perché tu ti peschi Un premio su Mimikyu E danneggi Pigeot E poi Devi mettere K.O. Qual Pigeot In qualche modo Li va bene Che Marco In questo momento Non sta giocando In maniera aggressiva Con le Fortune Sisters Così non li scarta Per esempio Cross Witcher O le funi di fuga Però sta arrivando Charizard intanto Ah wow Raga che forte Sto mazzo Adesso Adesso è complicato E sì perché Diciamo che Charizard Si sbarazza Dei Pokémon complicati E poi Molle avanti Snorlax O Mimikyu A seconda Della situazione In questo momento Greninja L'unico Pokémon Che poteva permettere Ad Dalton Di infastidire Marco Greninja Ora è negli scarti Marco Concede senza problemi Un premio Su quel Charizard Poi piazza davanti Mimikyu Snorlax E ha più o meno vinto Anche quel mio Non l'avrei Non l'avrei mai giocato E poi ci mancherebbe Comunque ad Dalton Mancherà solamente Un premio Quindi poi Dovesse avere Un boss nel mazzo Potrebbe comunque vincere Secondo me Marco Avrebbe voluto fare Tutta questa cosa Magari Con un turno di anticipo Anche se Charizard Non puoi caricarlo Così No io poteva caricarlo Prima Charizard Di realtà Puoi approvare Settarlo prima Non è riuscito Manca un solo premio Quindi Per quanto Marco Abba giocato bene Ad Dalton Manca un solo premio E se ha ancora Delle risorse Per ritirarlo Per fare boss Secondo me Può vincere Ecco che arriva un boss Carta decisamente Fortissima Nel mazzo di Marco Vediamo se vuole usare Quello Se vuole fare no Usa un altro Poké Gear Notare anche Il sequencing Chiaramente Poteva prendersi La carta aiuto Con Pidgeot Però prima Usa i Poké Gear Gioca velocissimo Non ho visto Cosa ha preso Ha usato Penny Giusto? Sì La versione full art Non la riconosco Giocando molto veloce Però ok Però Non penso che ce l'abbia Cioè in realtà potrebbe In realtà avrebbe senso In un mazzo Comunque Che si basa così tanto Su Greninja Però non penso Che ce l'abbia Adesso non si Si vede bene nel mazzo Ma Non ci sono energie Non c'è praticamente nulla Mi sa che Dalton Per un pelo Non ha abbastanza risorse Per far fronte a questo mazzo Che È davvero figo Questo che Ma non fa una grossa Rifferenza Pesca qualche carta Ormai Attenzione Ho sbagliato No dai Cinque È qui la finale C'è anche la tensione Si sta attenti A ogni singola mossa Fortune Sisters Attenzione Vediamo se Scarta qualcosa Ne scarta Tre addirittura Wow Ci siamo quasi Ci siamo quasi Secondo me Questa partita Potrebbe finire Con Marco Che usa C.U.I.X Per scartare Due carte La cima nel mazzo Di Dalton Credo che manchino Solo tre carte Nel mazzo di Dalton Ha concesso Dalton ha concesso Eh ci sta Avete visto che roba Sembrava che avesse Vinto la partita E E così Marco è riuscito A ribaltarla Mazzo fortissimo Proseguiamo quindi A vedere Il secondo round Non so se ci sarà Anche un terzo round Non lo so ancora Ah tra l'altro Mi sono accorto adesso Che c'è un errore Di battitura Lui si chiama Sifuentes C'è una N di troppo Prima della F Stavo pensando Un po' Come mai Questa partita E' andata E' andata così Per Dalton Secondo me Un errore Che forse ha fatto Dalton E' stato quello Di utilizzare Il potere viastro Di palca Che è fortissimo Troppo presto E per i pokemon Sbagliati Alla fine sia Ice Rider Che palca Li puoi caricare Con melania O manualmente Forse era meglio Aspettare Usare quel potere viastro Per caricare Greninja Il turno in cui Arriva a usarlo Con cui fare Appunto Quei KO Poi Bibarel Io non l'avrei giocato Ripeto Però è anche vero Che Marco Ha giocato Più di Mimikyu Che di Snorlax Quindi Però appunto Se Dalton Avesse giocato Meglio di Greninja Forse Marco Avrebbe dovuto giocare Più di Mimikyu Cioè Più di Snorlax Volevo dire Partito ancora con Snorlax Vediamo comunque Stavolta come va È partito di Palkia Con Battle V-Pass Quindi ancora una volta La partenza è ottima Sono curioso di vedere Come se la giocherà adesso Se sceglierà Una strategia differente Oppure se giocherà Allo stesso modo Come prima Ovvero puntando molto Sull'aggressività E cercando quindi Di pescare 6 premi Forse un po' Improvvisando Di turno in turno La win condition Perché comunque Diciamo che In base a un po' Quello che faceva Marco Dalton si adeguava Su capire Quale Pokémon Mettere KO Eccetera Vediamo Sono curioso Marco Penso che seguirà Più o meno La stessa strategia Cioè di solito Quando giochi Un mazzo a control Ti adegui un po' Quello che fa L'avversario Però comunque Le opzioni che hai Sono quelle Quindi ancora una volta Mi aspetto di vedere Snorlax e Mimichi O alternati A seconda Un po' di Come diventa Il campo Da gioco Di Dalton Che ancora una volta Scegli di risettare Subito Bibarel Quindi evidentemente È una cosa per lui Molto importante O magari Greninja nei premi Non vediamo Quali sono le carte Premio Può darsi che Magari Non lo so Secondo me Bibarel In questo matchup Non andrebbe giocato Anche perché Non hai veramente Fretta Di Settarti Quindi anche se Per un paio di turni Peschi e passi Non succede niente Però Però vediamo Dai Si prende subito Un boss Con Luminion Quindi Scelta particolare Spiritomb Sceglie Rigiocarlo Così blocca Rotom A Marco In effetti Prima non ci avevo pensato A questo Spiritomb Che ce l'ha partito Quindi niente Comunque Giocarlo Ha senso Perché blocchi Rotom A Marco Adesso sto Voi vedrete Il commento Alla lista Prima delle partite Io la lista La commento Dopo le partite Così almeno Riesco a farvelo meglio In realtà Al momento Non sono convinto Che lui giochi Rotom Cioè secondo me Sì perché è una carta Veramente fortissima In questo mazzo Ora visto che la partita Prima proprio Non si è visto Rotom Mi chiedo se Marco Semplicemente Non l'abbia pescato Oppure se per qualche motivo Non lo giochi Però secondo me Lo gioca È troppo importante In un mazzo così E il fatto che D'Alton Abbia giocato Spiritomb Mi lascia pensare Che si aspetta Che Marco Effettivamente Abbia Rotom Controlla bene Quali carte Ha nei premi Se le segna Anche perché Attenzione Attenzione Che succede Abbiamo qualche problema Tecnico Ok Sembra una cosa Momentanea O forse no Forse sì Vediamo Sicuramente una bella Pescata Io mi sa che Stoppo un secondo Perché qui Ci sono problemi Di connessione Riproviamo Ci vediamo In questo momento Ho messo il modem Accanto al computer Vediamo se la connessione Ora tiene bene Allora Gli ha dato Bibarel e Perula Con Chissara Quindi decisamente Una Chissara Molto forte Vediamo cosa Sceglie di prendere Perché effettivamente Palchia non è un buon Attaccante In questo momento Però magari Semplicemente Fare un primo attacco Potrebbe essere Una buona scelta Ok ci sta Ha preso anche L'aspiratore perduto Snorlax A 150 punti salute Con la panchina piena Ampiamente Riesce a fare il KO Quindi può Mettere il KO Questo Snorlax Ultra Ball Con cui Potrebbe aver scelto Una perula Anche se non le sono sicuro Perché non sono viste Bene le carte E si prende Un Ice Rider VMAX Che gioca subito Secondo me Greninja nei premi Comunque Però Un sacco di energia Proprio quello che cercava KO Ok Premio Melania Una buona carta Anche quella Marco ha in gioco Solamente L'Axray Ovvero ha usato Pepe Che è la sua carta aiuto principale Quindi ci sta Vediamo che strategia Sceglie di seguire adesso Si prende Pidgey Che purtroppo Prima non era riuscito A prendersi Ha dovuto dare Chi sarà Perché non aveva Pepe Quindi questo sicuramente È uno svantaggio Per lui Ecco che arriva Rotom Ma non lo può usare Però l'ha giocato Lo stesso E passa Chissà come mai Ha giocato Rotom Pur non potendolo usare Ah per evitare La fune di fuga Forse Però comunque D'Alton aveva il boss Ragazzi In questo momento D'Alton è molto aggressivo Lui era anche La partita prima Ma stavolta Ho come la sensazione Che è fin troppo aggressivo E che Marco Non riuscirà A vincere questa partita E che secondo me Passeremo un game 3 Non ce nemmeno Pidgey In gioco tra l'altro Quindi Situazione veramente complicata Per Marco questa Pesobol Vedo che ha aumentato Anche il ritmo di gioco Forse sta iniziando A ipotizzare Che potrebbe esserci Un game 3 In questa partita E vuole avere tempo Di farlo Anche se comunque Il suo mazzo Che attacca E ci mancherebbe La finale Non può finire in pareggio Però ecco Una partita secca Senz'altro Sarebbe D'Alton A fare il primo premio A meno che Marco Non riesca a caricare Il suo Charizard Prima che D'Alton Riesca a caricare Qualunque attaccante Perula Vuol dire che Il mazzo palchi D'Alton è veramente Molto bello E tra l'altro Anche dopo la rotazione Rimarrà praticamente identico Ruota Ice Rider Se non ricordo male Si però C'è nel senso Poi il mazzo Rimane quello Quindi Fateci un pensierino Ho fatto un video Anche di recente Vabbè O mai qualche mese fa Sul mazzo palchia E' un mazzo Anche molto semplice Da usare Molto dato anche I principianti E secondo me E' un'ottima scelta Magari Non competitivo Come c'è in Pao Se vogliamo Se vogliamo Confrontare i mazzi Acqua Però intanto Come vedete Arrivato In finale Guardate che roba No Adesso Secondo me Marco Non può Recuperarla Questa Ah L'ha concessa L'ha concessa Ok Ok ragazzi Abbiamo un game 3 E io come vi dico sempre Quando vedo le finali Con il game 3 Sono contento Perché sono molto più emozionanti Sono 1 a 1 Abbiamo ancora 38 minuti Voi sapete quanti minuti Mancano alla fine Del video Io non lo so ancora Vi dico la verità So chi vince So chi vince Perché va bene Il senso Come fai Alla fine Cioè Mi sono guardato Anche la lista Prima Quindi Di entrambi i giocatori Quindi ho visto Chi è arrivato Prima Chi è arrivato Secondo Però Vediamo Come arriva Questo giocatore A vincere la partita Abbiamo capito Che Dalton Come strategia Cerca di essere Più aggressivo Possibile Se ne frega Ampiamente Di quello che mette In panchina Cerca di essere Aggressivo E Marco Gioca Come dovrebbe giocare Un mazzo snorlax Diciamo Partenza Di pjout v Ci sta Un malligan Sicuramente Una cosa gradita A Marco Che comunque Essendo un mazzo Snorlax Non è un mazzo Pensato Per pescare Chissà quanto È un mazzo Pensato Per Il lungo periodo Quindi pesca poco Ma pesca per tanti turni Quindi una carta in pure inizio Può essere veramente Una cosa importante Ah C'era anche Mawile Quindi molto bene Ah Un centaun Non si era ancora visto Centaun Il mazzo Di Dalton Ecco Centaun Attaccante Che potrebbe Poi Mettere in difficoltà Dalton Perché comunque Ogni volta che attacca Scarta energie Quindi le energie A un certo punto Finiscono Qui non è che c'è Bax Calibur Quindi recuperi di energia Quindi in realtà Stavolta la partenza Di Dalton Non è il massimo Nemmeno quella di Marco Però vabbè L'altro interessante Che ci sia Mawile Oltre a Snorlax Quindi un modo diverso Per bloccare la ritirata Simile Ma non la stessa cosa Diciamo Questo modo Per bloccare la ritirata Continua a prendere L'Axray Per la terza volta Vediamo se stavolta Lo vedremo effettivamente Giocato Secondo me sì Perché l'ha caricato C'è un'energia fuoco In mano Quindi basta Veramente poco E vediamo se appunto Iniziano a vedere Questo modo Di giocare Un po' più Control Che Stahl Che è un po' La differenza Tra questa variante Del mazzo Snorlax E quella classica Che abbiamo sempre visto Finora Anche su questo canale Dalton sta controllando Un po' Le carte premio A me darebbe fastidio Comunque uno Che ogni volta Che appoggi una carta Te la sposta subito Non lo so Poi magari sono io Che sono un po' Per maloso Però cavoli Cioè dagli il tempo Di prendere le carte E poi se le sposterà Da solo Nella carta Nella Negli scarti Boh vabbè A me darebbe fastidio Vediamo se adesso Prende Strider E glielo aggiunge Alla mano Perché in quel momento Non è stato messo In panchina Un sacco di energie Le energie non mancano Proprio I vari attaccanti Ci sono Energia su palchia Che è chiaramente L'attaccante più efficiente Da usare Contro un mazzo Come quello di Marco Quella credo Enya quella Quelle carte full art Sono in difficoltà Marco è partito La grande Ha già Caramellera La pgeota Il secondo turno Partendo per primo E sta anche per attaccare Con l'axre Quindi Davvero alla grande Sta giocando Anche molto velocemente Quindi ha proprio in mente Bene quello che vuole fare Ritira Come mai gioco così velocemente C'è un sacco di tempo Vabbè E gli scarta lo switch Gli scarta lo switch Che In realtà Io forse Al posto di Dalton Il turno prima Avrei usato switch Per mettere attivo palchia Aspettandomi comunque L'attacco di l'axre Con cui avrebbe scartato Lo switch Quindi Io avrei anticipato Questa mossa Sinceramente Ultra ball Scartando Due delle tante energie Immagino Quella arriva La palchia C'è in mano Una petra Che se anche venisse Scartata Non sarebbe un problema Al momento Mi sfugge un attimo Se l'axre Scarta solamente Le carte strumento Quelle allenatore Ma secondo me Le carte allenatore In generale Non ne sono sicuro Al cento per cento In ogni caso Però non è un problema Era ovvio Che avrebbe scartato Lo scambio Tra quello e petra Qua ha preso anche Le energie Con Chen Pao Evolve Vediamo se scegli Di usare il potere Viastro Per mettere Che a poco All'axre Io non lo farei Però È messo male D'alton Non ha avuto Una bella partenza Non è in mano Niente E qua Per me ha sbagliato Prima con lo switch E ma qua Come fai A scartare Cinque energie Così Solo per mettere Che a poco All'axre Ti sei bruciato Il jolly Del potere Viastro Sei senza Energie In gioco Non è in mano Niente Secondo me Come fa adesso Qua doveva Usare switch Prima E In ogni caso Non fare questa Mossa adesso Al limite Portare un attimo Di pazienza E vedere se riusciva In qualche modo A ritirare Cienpao Che ne so Settare I bibari Il green ninja Perché non è in mano Niente in questo momento Cosa ho pescato Non ho visto Melania c'è però Quindi questa È senz'altro Una bella cosa Perché ti fa pescare E ti fa recuperare L'energia Un'energia in mano C'è Ma non c'è Il modo per switchare Vediamo Minerball Se prende Bidoof Greeninja O qualcos'altro Penso che prenderà Bidoof Che io a questo punto Prenderei Bidoof E' un'energia in mano E' un'energia in mano Adesso Adesso arriva pure Mimikyu Si pare che no Naturalmente in questo caso Cienpao non poteva ritirarsi Perché c'è Snorlax Il turno prima In cui ho fatto Quell'attacco Di Cienpao Sarebbe stato Forse meglio Ritirare Cienpao Così non buttare Tutta quell'energia Ma solamente due E attaccare con palca Facendo due attacchi Vediamo comunque adesso Ok si prende Pepe Con cui prende Blocco Amici E Amuletro del Coraggio Quindi questo Snorlax Anche qui Sarà molto complicato Da mettere KO E tre energie non bastano Ma che fa 180 E basta Però anche qui Vorrebbe dire Scartare otto energie Per pescare tre premi Ci sta Se fosse un mazzo Cienpao Non sarebbe un problema Però non è un mazzo Cienpao E a un certo punto Le risorse finiranno Nel mazzo Credo che le energie Infatti non ce ne sono più Sotto all'abilità Di Cienpao Ci staranno Credo Quattro energie Nel riscarti In questo momento Forse uno Due in mano E uno Due nei premi Ok due in mano Carica giustamente Su palca Perché quel Cienpao Secondo me Non deve più Attaccare tutta la partita Ve l'avevo detto Inizio partita Quel Cienpao Non era una buona partenza Perché alla lunga Diventa veramente Impegnativo Gestire Delle attacche Così dispendiosi In termini di energie Per un mazzo Che non è pensato Per farlo Perché poi il mazzo Cienpao Bax Calibur Può andare avanti Dieci volte Attaccare con Cienpao Se non dieci Quasi Ho usato Fosco Ma non c'era niente Quindi non c'erano Carte oggetto Non c'erano stadi E non c'erano Energie speciali Mi sembra Ok Marco Non fa niente Di che Alla fine La sua stregia Stale Sta funzionando Un'energie Anche su Quella Ice Rider Poi passa Quel Cienpao Va ritirato Con una fune Di fuga O con uno switch Però lo switch L'era scartato E anche un cross switcher Quindi secondo me Di modi per ritirare Ne resteranno Al massimo un paio E non sono abbastanza Per gestire Un matchup Contro Stale Quindi secondo me Non può recuperare La Dalton Io non ve lo dico Perché so come Finisce la partita Ve lo dico Perché mi sembra Abbastanza evidente Che il gioco Sia molto Cioè Che sia molto In vantaggio Marco In questo momento Arriva Charter Con l'energia Interessante Il countercatcher Su Bidoof Ci sta Però comunque Cienpao A un certo punto Poteva anche attaccare E fare il KO Bidoof Comunque non si può ritirare E non può attaccare Almeno Toglie quella tool Ma non penso sia Una delle priorità Di Dalton In questo momento Che per vincere Dei fare ancora Almeno 4 attacchi E non c'è vicino E non c'è vicino E non c'è vicino a farne Neanche uno In questo momento No non almeno 4 Almeno 3 Perché se mette KOPG Sono due premi Ultraball e Anfora terrestre Quindi vabbè In questo caso Vabbè Ultraball per Biber Poteva essere interessante Però Niente di che È uno switch È uno switch Ma non lo usa Ci sta Marco valuta un pochettino Che cosa prendere Si è preso 3 volte Di fila Pepe Con Pigeot Ci sta Perché praticamente Ti prendi una carta Con cui ne prendi due Passa a notare Che il ritmo Di gioco di Marco È molto veloce Perché non può rischiare Di finire in pareggio Perché nella partita secca Perderebbe E quindi perderebbe Questa partita qua È evidente Che deve vincere la Marco Però Se non fa in tempo A vincerla Rischia di perderla Per il fatto Che poi c'è la partita secca Capiamo Adesso Come andrà a finire Dalton In questo momento Sta giocando in maniera corretta Perché comunque Corretta nel senso Di sportiva Perché potrebbe giocare lento Per cercare di forzare Il pareggio Ma sarebbe sleale Anche se Se poi uno lo fa Nei limiti Delle regole del gioco Non gli puoi dire niente Cioè Ci sono i judge Che stanno guardando Se uno non gioca Troppo lento Ha permesso di farlo Semplicemente Una cosa Magari poco sportiva E invece Dalton Comunque sta giocando A una velocità normale Non sta aspettando Che scada il tempo Perula Può prendersi la fune di fuga Volendo Che è anche un modo Per non farsela scartare Con le fortune sisters Oppure l'ultra ball Con cui si è preso Anche un pokemon Un ice rider E con l'ultra Può prendere Bibarel Vediamo se è quella La sua idea Invece no Non riesco Non riesco a immaginarmi Un modo in cui Dalton Possa Possa recuperare Questa partita Cioè riesco a immaginarmi Che riesco a pescare Ancora uno O due premi Ma solo questo Qui addirittura Sta arrivando Charizard Con l'energia E il countercatch Su Chen Pao Che mossa interessante Questa Non so se l'ho capita Del tutto Sinceramente Io sinceramente Non lo so Che bisogno c'era Di fare questa mossa Che paura ti faceva Chen Pao Perché può mettere K.O.P.J. Hot Però Poi rimaneva Senza energia In gioco Boss Bidoof Snorlax davanti Vincevi comunque Cioè Non avrei regalato La possibilità Di uscire dal lock Ad Dalton In questo modo Perché ora Vuol dire Che può fare Un premio Senza dover utilizzare Switch E nient'altro Boh vabbè Marco Sifueta È un giocatore Molto forte Molto famoso Adesso non vi sto Dire di preciso Che risultati abbia Però è un giocatore Che ha Una bella lista Di risultati Quindi se ha fatto Questa mossa Ci sarà stato un motivo Magari Non sta venendo in mente A me adesso Anzi se magari Venendo in mente A voi Ditemelo pure Nei commenti Però Dubito che fosse Un misplay O Cioè ci sarà Sarà una spiegazione Secondo me Vedo Sofra Potrebbe arrivare Già Sofra Tra l'altro Per riprendere Charizard Dino che carta Ha preso Che non si è vista A bacino di magma Ci sta Quindi si recupera Questa carta Con Sofra Charizard Energia Con bacino di magma Energia Dalla mano Ben da sfida Perché è sotto Di premi E ora Ah ok Ho capito adesso Perché ha fatto Quella mossa Vuole vincere Di premi Vuole vincere Di premi Sta per mettere K.O. Palkia Però poi Ice Rider Come lo metti K.O. Vabbè In questo caso Mario Rilasci Mimikyu Ma Vediamo Continua Non essere Convintissimissimissimo Però forse Dalla prospettiva Non vediamo Quante carte Ha nel mazzo Dalton Forse il mazzo È troppo grande E Marco Ha veramente paura Di non riuscire A vincere I recauti In tempo Dalton Potrebbe usare Kissara A fine partita Rimiscare Tutto nel mazzo E vincere In quel modo lì Sarebbe assolutamente Corretta Come mossa Quindi può darsi Che Marco Voglia forzare Un po' Una vittoria In questo senso Però vediamo Adesso Macchinare Un'evoluzione Interessante Perché gli fa Riprendere in mano Pigeot Di Caramel Ne ha solamente Due Attenzione Attenzione Non mi dispiace Quello che sto vedendo Anche perché Charizard Non può attaccare Il prossimo turno Quindi anche se Non la metti K.O. Chi se ne frega Sai che non mi dispiace Sta mossa No No Per scatola Non ci posso credere Ma come Ce n'era una Nel mazzo Dai Questa non vale Questo è il quarto Pepe che prende In questo modo O il terzo O il quarto Addirittura E fa l'attacco Cavoli Ha fatto Petra da due D'altro L'aveva giocato bene D'altro Questa l'aveva giocata bene Se adesso perde Secondo me Allora Non ha giocato molto bene Inizio partita Secondo me Ma ha giocato bene adesso Quindi Si è Si è un po' rifatto Dopo Dopo l'inizio partita Marco Ha avuto Un po' di fortuna In questo turno Perché dopo una Petra da due E un macchinare Di rivoluzione Riuscire a rettacare Conchizer Resettare Pidgeot È una cosa Assurda Quindi adesso vediamo Dalton comunque È lontano Da riuscire a vincere Ora si pescherebbe Un premio Però comunque Per mettere capo Pidgeot Sarebano altri due attacchi E c'è pure Mimikyu Che è un bel problema Che andrà affrontato Prima o poi Anche se la colonna Dell'allullamento L'ho vista prima Quindi potrebbe arrivare A un certo punto Bisogna capire se però Marco riesce a risettare Charizard Per mettere KO Ice Rider Prima che Dalton Riesca a pescare I premi Palchia con un'energia Quindi sta preparando Un secondo attaccante Questa mossa Mi piace molto Perché vuol dire Che al prossimo turno In teoria Ice Rider Se non viene messo KO Dalton può switcharlo E lasciarlo in panchina Ora sta valutando Se attaccarlo o no Forse perché Non si può ritirare Io però Lo ritirerei assolutamente Usa uno switch Spreca così uno switch Cos'ha in mente Come mai ha fatto questo switch Cosa sta cercando con Mew Qui il sequencing Sta valutando un po' Anche lui Come svuotarsi la mano Per usare Bibarel Lo sta bacino di maga Ma mi piace questa mossa Mi piace moltissimo Cosa sta cercando Come mai ha fatto Ha fatto questa mossa Cross switcher Anche già assegnato E quindi vuol dire Deve switchare due volte Non lo so ragazzi Non ho capito Che cosa ha in mente So solo che Non mi è piaciuta molto Questa mossa Cioè poi ci mancherebbe Con Pidgeot in gioco Anche facendo il capo Su Charizard Con Pidgeot magari Si riprendeva Sofora Però credo che ne abbia Una sola Che l'abbia appena usata Quindi Ci voleva il blocco amici Che come vediamo Aveva in mano Quindi come non detto Ok quindi avrebbe vinto Marco il turno prima Se d'altro non avesse Attaccato Charizard Tempo sta per scala Non è vero C'è manca Ancora dieci minuti Però Da una cosa all'altra È molto lunga Sta partita Selina Da uno o da due Uno sicuramente Forse due Addirittura due E passa Perché con Charizard Può toccare solamente Un turno sì Un turno no Dalton sta caricando Palkia Vediamo se riesce A ritirare Questo Mew E che se usi Cross Witcher Poi togli Charizard Tu Charizard invece Lo vuoi mettere KO Ha caricato manualmente Questo Palkia adesso E quindi non voleva Ritirare Per fare l'attacco Palkia Fune di fuga Non dimmi che fa anche Cross Witcher E così non ha più Modi per ritirare Beh io manderei Io manderei Mimikyu Io avrei Cioè ok Che poi Mimikyu Andava ritirato Però boh Cioè Farti lanneggiare Un PJ Hot Così Gratuitamente Sì beh In realtà Non può essere messo In un attacco Quindi ci sta Anche far solo Danneggiare Sì no Ci sta come mossa Forse Tra l'altro A Cross Witcher Mamma mia Ok KO Charizard Con Palkia Ha preso il boss Ah sì beh Certo Ho attaccato con PJ Perché l'ha già Danneggiato Cavoli Che partita Che round Pazzesco Ragazzi abbiamo visto Un mazzo Stal Control È difficile capire Dove è il confine Fra le due cose In questo mazzo qua Che ha vinto Pescando premi E li ha pescati Veramente con molta Energia Cioè Ha tenuto testa Mica male Al mazzo Palkia Dell'avversario Mi sono piaciute Queste partite Su alcune mosse Ero poco convinto Da parte di entrambi Specialmente Da parte di Palkia Però comunque Tutto sommato Penso che i giocatori Abbiano giocato bene Voi fatemi sapere Nei commenti Cosa ne pensate Fatemi sapere Se preferite Questo mazzo Snorlax O quello classico E noi ci vediamo Prestissimo Con un nuovo video Ciao Ciao